Uno che mi segue moltissimo è diventato più bravo di me, è il mio figlio Massimo. La mia esperienza fin da bambino è stata quella di seguire mia madre un po' in tutto quello che era la vita dell'azienda. Ha tantissime idee, sempre la ricerca di cose nuove, sempre la ricerca di materiali nuovi. Mi ha sempre affascinato questa cosa, sia diciamo in sé, la pelle proprio come materiale, perché ha un fascino tutto suo, sia e soprattutto diciamo quello che è l'aspetto creativo di questo lavoro. E lui adesso che va alle mostre, sceglie le cose da proporre. Creare, cercare di inventare sempre cose nuove, stare al passo dei tempi e quindi diciamo è una cosa che mi ha sempre affascinato. Un po' perché mi ci portava lei, un po' perché mi interessava e quindi sono cresciuto con questa aspirazione. Ho cominciato a lavorare come operaio, proprio fisicamente, a cercare di capire come si fanno le borse. Chiaramente anche per qualsiasi stilista o chiunque, voglio dire, si occupi di creare un prodotto, la tecnica per costruirlo è la prima cosa.